Alessandro Marzomagno, oggi un turista che arrivi in piazza San Marco viene ovviamente stupito, stordito dalla bellezza di questa piazza, ma anche dalla sua problematicità rispetto alla città di Venezia. Che cos'è che non può più vedere un turista contemporaneo in quella piazza? Beh, non può vedere l'evoluzione, non può rendersi conto di com'era e l'altra cosa che non può vedere è la funzione che aveva, che certamente non era un luogo soltanto per i turisti, anche se c'erano i turisti, ci sono sempre stati a Venezia, ma era un luogo di ostentazione, dove lo Stato Veneto, dove la Repubblica affermava il proprio splendore e la propria potenza. Quali sono le tappe più significative, così, viste in corsa dell'evoluzione di questa piazza? Beh, diciamo, il passaggio dalla piazza medievale, appunto, col castello e le torri, che avviene attorno al XII secolo, ovviamente, non tutto all'improvviso, insomma. E poi nel Cinquecento, che assume più o meno la conformazione attuale. E anche se poi i cambiamenti continueranno, perché l'ultimo grande cambiamento in piazza San Marco è nel 1807, quando viene buttata giù una chiesa del San Sovino, per costruire un salone delle feste. Nel suo libro Venezia 1499-1509, la splendida, si ferma su un decennio. Perché quel decennio è così importante? Perché è un decennio di svolta. È un decennio nel quale Venezia entra da grande potenza militare, viene militarmente sconfitta e quindi poi deve, in qualche modo, riaffermare il proprio ruolo, ma in maniera diversa. E la soluzione trovata dai veneziani è stata di sostituire la potenza con splendore e sostituire il ferro con l'oro. Quando incade invece Venezia, in qualche modo, quando finisce questo splendore? Allora, a me piacerebbe dire che non è ancora finito. In realtà poi le cose non sono andate così. Dopo la caduta della Repubblica a 12 maggio 1797, l'entrata dei francesi e la perdita del ruolo di capitale, immediatamente c'è una decadenza. Cioè immediatamente la città si impoverisce e Piazza San Marco si svuota, anche se poi, insomma, ci saranno vari avvenimenti di cui la piazza sarà protagonista e uno che probabilmente molti ricordano è il concerto di Pink Floyd, no? Nella fine degli anni Ottanta. Grazie. Prego.